Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Alien vs Predator Pronti per una nuova partita online? Spero di sì perché io sono abbastanza carico Mi è venuta voglia di giocare anche perché è un paio di giorni che non gioco Più o meno Allora mi è venuta voglia quindi Non so ancora chi andrò a usare Penso all'umano Perché mi piace e voglio imparare ad usarlo bene quindi Allora Scusate allora Marine Però voglio di cambiarlo Vediamo Connor Va bene Connor mi piace Partecipa Ok Iniziamo subito Allora Partita mortale tra razze a squadre Sconfiggi le altre squadre per vincere Questa è la mappa più bella secondo me Ci ho giocato già diverse volte Mi piace sempre un casino Sia con l'alien sia con il Predator sia con l'umano È bella Con tutti i personaggi questa partita Questa macchina Ma vabbè Questo fucile fa davvero schifo Cioè magari è forte però Non sono capace Ad usarlo Quindi non lo uso Preferisco Questo mitra Ok Ti ho appena salvato il culo eh Destructor Ricorda Avete visto guardate Come cerca di arrivare da dietro E come Mi prende Ecco Vai perché è stato più veloce Perché il Predator può fare lo scatto Contro una preda Quindi Ho ucciso un alien Vai Uh uh No No maledizione No Stavo caricando L'ho visto laggiù E poi è diventato invisibile E non so se Era un altro Se era sempre lo stesso Quello che mi ha ucciso Aia aia Ma perché tutti se la prendono con me Siamo in tanti lì Oh cazzo Oh Oh cazzo Ebbè non era facile Quando non riesco a vedere Uh uh Guardate là che si vede la coda di Eh però Non potendo mirare Come sparare a caso Più o meno Quindi Meglio aspettare che si avvicinino Guardate che mini esercito Che c'è E poi guardate Guardate quello là Eh Adesso è appena tornato Per fortuna Sembrava davvero come Nei film horror Primo che si Stacca dal gruppo Il primo a essere ucciso Vabbè Ma che è successo? Boh Urca Urca Oh cazzo Oh cazzo Uh 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 cazzo Merda I miei compagni continuano a morire Ecco È toccatura Ma Tutti i miei compagni spappolati Basta Basta Con sto cannone Cambiate arma Avvicinatevi un po' di più Io vi faccio il culo No no giusto Sbagliato Oh Cambia Ok Bravo Attacca lui Ok No No Me l'ha fottuto qualcuno Bastardo Chi è stato? Non ho Non ho visto No 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 Aiaiaiaiaiaiaia Sca Scappa No No Maledizione Non sei riuscito a ucciderne neanche uno Tu sei mio Tu sei mio Bastardo No Dammi sto cazzo di fucile La pompa Ci penso io T'ho spappolato Tutana Oh cazzo Oh cazzo Corri 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 In mezzo al gruppo In mezzo al gruppo In mezzo al gruppo Cosa qua il cannoncino Il cannone Vedete Il colo dei predator Infatti molte volte Vengono qui Questa qui Diciamo che è un po' La base Del predato Intanto sto massacrando Stavo per dire Sto massacrando tutti gli alien che trovo Però Sono appena stato ucciso Che cazzo faceva Quell'alien L'avete visto? No no Non ci provare Non ci provare Quello mio amico Adò Ah no era un predator Ah vabbè Bravo comunque Chi è? Chi è? Guardate il cadavere di quell'alien Siamo troppo forti noi umani E non si possono neanche avvicinare Cioè più o meno Ah l'ho ucciso io Eh la cosa che dà un po' fastidio in questo gioco è Non c'è l'assist come Non lo so come In Call of Duty ad esempio Qui solo chi Lo uccide e guadagna il punto Quindi tu puoi anche stare lì mezz'ora a sparargli Poi magari arriva un deficiente Che soffia E Lo uccide E il punto va a lui e non a te che Hai usato tutto il caricatore Per dire Questo dà un po' fastidio Tu magari ti sbatti Per uccidere qualcuno E poi Arriva uno qualsiasi Però vabbè Fa parte del gioco E così Ce lo teniamo così E lo si può fare Ogni gioco ha i suoi alti e i suoi bassi Quindi Bravi Oh cazzo Cazzo Scappa va Avete visto come l'ho messo in fuga S Pivello Questo viene qua e mi fa il culo No no Il Predator l'odio Quando inizia a fare così Lancia il disco Guardate questo Oh cazzo Madonna Mamma mia Credevo fosse più lontano Invece me lo sono ritrovato addosso Praticamente ci siamo abbracciati quasi No Il mio amico E vai E vai Io le uccisioni le faccio così Non è bello da fare però Si può fare quindi Quello lì Oh Fucila pompa Sì Fucila pompa Vai Sono pronto Aia 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 Adesso non lo troverò mai più il fucila pompa Aia Prendetela con lui Aia Aia Madonna che massacro che è Madonna che massacro che è